Anche aprile si concluderà con una manifestazione giorno 30 qua in Piazza Cavour. Il trend è invece un gruppo di giovani soprattutto con uno spirito di reciproca collaborazione da parte di alcuni negozi e di alcuni commercianti che hanno patrocinato e sponsorizzato le iniziative proprio su Piazza Cavour. L'intento è quello di creare una serata di allegria e di gioia coinvolgendo dei gruppi musicali e dei band che avranno modo di far rivivere una serata in perfetta armonia e gioia. È una fase di sperimentazione perché stiamo cercando di chiedere con aiuto, poiché il Comune non ha grandi possibilità economiche, proprio di far capire che unendo le forze, sia il pubblico che soprattutto il privato, si possono organizzare delle iniziative che possono mettere in salto quella che è il nostro centro storico, quella che è la nostra splendida Piazza Cavour. È una giornata che è nata da un gruppo di ragazzi che tramite gli strumenti telematici ormai di Facebook sono riusciti a creare un gruppo interessante, un gruppo notevole e hanno deciso così in maniera con spirito di volontà e di sacrificio di organizzare una serata. Noi come Comune stiamo semplicemente garantendo quello che riguarda la logistica, l'ordine pubblico e la sicurezza. Dopodiché il resto, ed è giusto che vada anche detto, anche per ringraziare pubblicamente questi imprenditori e questi commercianti, è merito della città, è merito dei commercianti che hanno capito che è un momento di difficoltà e di ristrettezza economica che vanno incoraggiate le associazioni perché si creano quei meccanismi virtuosi di collaborazione tra l'ente pubblico e i privati per incoraggiare il nostro tessuto socio-economico. Grazie.